Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a mille like, condividete il video, iscrivetevi al canale Se non vi lascio il hashtag Brawl Stars qua sotto nella mente per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Oggi effettivamente voglio portarvi con me a fare un po' di partite Con il brawler che effettivamente attualmente è il più alto che ho Sia per soia sia per livello L'unica cosa che mi manca è la sua overdrive e stiamo parlando di questo fantastico brawler dog Di cui ho trovato anche la skin per sbaglio nelle aperture casuali Quindi c'è addirittura dog drago che è tanto caruccio E devo dire che mi ha portato avanti sia nelle competitive dove sono arrivato a diamante 1 E sia nelle partite giornaliere che ho fatto con molte persone Allora se aspettate un attimo riesco pure a ritrovarvi le statistiche e me le vetto a schermo Allora ragazzi queste sono le statistiche che io in pratica ho fatto solo nella giornata dell'altro ieri in pratica Quindi botta secchissima e ho fatto precisamente 251 solo quel giorno e un centinaio circa il giorno prima Quindi sono andato a bestia e sono salito in maniera incredibile perché per me questo è un brawler nuovo Sapete che sono rientrato da poco a giocare quindi questo è il mio miglior brawler maxato che ho attualmente E che secondo il mio piccolissimo parere è anche parecchio rotto Ovviamente ha anche saputo giocare Ovviamente io lo utilizzo con il gadget per aumentare il danno che è veramente importante col prossimo attacco E l'abilità stellare self service croce e delizia ripristina anche la salute di dog con il 20% del suo valore normale E allora questi sarebbero anche interessanti questo per aumentare la velocità dei brawler risorti Però di solito mi resuscito da solo Non mi interessa resuscitare gli altri perché vado molto di carica E stessa cosa questo mi serve a me perché andando molto di carica è preferibile che faccio un danno bello secco Specialmente in alcune modalità Allora lo andiamo a giocare oggi ci sono ben tre tre posti dove è buono La sopravvivenza in solo dove al 50% è buonissimo La dominio che scale tra tre ore campo elisio che dove lui al 36% è buono E ovviamente se non erro ci dovrebbe stare anche foot brawler che ha delle zone molto chiuse Dove dog dovrebbe fare veramente un grande effetto L'annientamento non è buonissima perché il centro può essere pulito facilmente da quei cespugli E quindi è facile che non si riesca più a combattere al centro e poi rimarrai troppo scoperto Quindi andiamo a farci qualche partitina, una sopravvivenza, una dominio, una bella foot brawler E vediamo come ce la caviamo Andiamo a farci questa partitina in sopravvivenza in solo Vediamo se veramente riusciamo a gestircela Non so, non so Sinceramente molto buona all'inizio per fare lo scherzone a questi No, ma fregato, per un pelo, va bene Ok, no, muoio io, guarda, eh Olè, eliminato grazie all'attivazione del gangret Quindi tanta roba L'ho giocata veramente male, eh Lì l'ho giocata veramente tanto male Però Tanta roba Madonna quanto è grosso quello già Ah, è perché c'ha tre power-ups Va bene Nessun grosso problema, allora Guarda che non passa vicino al cespuglio Guarda questo Madonna E ti acchiappo che te faccio 10? Niente Questo vale acchiappo a me, se hai capito No Ne so stretto Ok Eliminami Eliminami Bravo Grazie Mi hai rifullato con grande amore Ti voglio bene Oh, ma tutti appunto a me Ma tutti contro di me, ragazzi Ma tutti contro di me Ma questo si chiama teaming Dalle mie parti Mi curo un po' Anche se non serviva, eh Ok, fatevi menare bene Qua ci dovrebbe stare il primo de prima Vediamo un po' Passaci, ti prego Passa lì Vai Ah, no C'è lo spike Ok La possiamo gestire contro un 5 Non ne sono proprio sicurissimo Contro quello spike mi sento un tanto stretto Va bene So che tu vorresti caricare Ma io non te la faccio caricare Dai Che vuoi fare? Eh, ma preso Ma son pirla Eh, ah Ok Mi sono buttato un po' più al centro Preso lui Eh, però Siamo ancora in sette, regà Siamo ancora in sette Quelli stanno a combattere in maniera importante Io Posso stare bello centrale Questo ovviamente Aia Stanno combattendo tutti lì Preso Madonna Devasto Eh, curati, curati Madò Che ci manca Eh, quelli muoiono Va bene Questo ha attivato l'overdrive Non ce ne interessa A niente No, aiuto Aiuto, no Questo si chiama collaborare Maledetti E teaming Andiamo a provare una bella dominio Vai che Dequart teaming Mi sembra abbastanza difficile Ok Allora loro vanno tutti e due là Io provo ad andare qua Dai Dovrebbe No Dynamite Eh, non c'ha la cura Porca miseria Sono andati in due Dalla parte destra Di solito vanno a sinistra In due È un problema, regà È un grosso problema Cioè, il nostro Dynamite Che ci ha provato, eh Posso dire che Ci ha provato Porca miseria Oh, vai Eliminami Ti prego No, volevo farmi eliminare Vabbè, fa niente Oh Ci ha provato Maledetto Ok Dai che abbiamo preso il nostro Vantage Perfetto Mi sono un attimo curato Aia Quella l'ho sentita però, eh Eh, no Eh, te piacerebbe Te ramene due Tu mori Secco, proprio Ok Vai così Fregato Non te l'aspettavi Quello Tanto da qua Non mi sposto Però posso fare questo Boom Devasto Quello lo eliminiamo No, assolutamente Ci ha provato a eliminarci, eh No Mi ha finito il No Dai però Dai però Dobbiamo andare tutti e due a sinistra A sinistra Zanna Niente Zanna non ha capito Come funziona la situazione Ok Non mi frega niente Azzardiamo così Vai Ah Boom Lo ha eliminato No Lui no però Dai vai lì Bravo Bravo BB Brava BB Così Vinta Portata a casa Niente male E famosa Una bella Foot Brawl Vediamo dove ci porta Vediamo un po' Dovrebbe essere un'ottima situazione Ora proviamo Vediamo un po' i nemici che sono Ok Sto cercando Ma gli altri Perché non attacca Allora io delle volte Non capisco La troppa pazienza Nella foot brawl Ci stanno dei brawler Dall'altro lato Che sono enormi No Dai vabbè Non ci credo Non ci credo raga Non ci credo che cosa ha fatto quello Non lo sa manco lui come l'ha fatto Ok Io mi metto dietro muro Vi aspetto Ok Menami Le prego Menami Ok non mi meni Ah ecco Così vero È così vero che si fa Vero E guarda tu L'ho attirata tre volte Ma i miei Che stanno a fa' Io non capisco Loro iper difendono I miei Non attaccano come devono Non ce la fanno proprio Eh io posso pure curarve Ma che ce faccio Con du cure È a posto Aia E quelli dietro Intanto si fanno menà Ok Ce sto a provare Gama I miei compagni Non mi sembra che siano molto Avvezzi A vincere oggi Ok Quello dovrebbe morire Ipoteticamente Grazie Ritorno in vita Al te Te elimino Bello secco Dai Avete rotto un attimo Tre quarti Posso dirlo Ok Ho allevato il doppio Però Niente Il nostro leon Non è un grande leon Questa la perdiamo Molto probabilmente E molto velocemente Anche Ok Ci proviamo Vai Questo lo elimino io Ok Non ce ne frega niente A dritto Completamente a dritto Vai così Che sono soddistratti Su de me Di nuovo Così Va bene Una volta L'hai derotto Tre quarti Però dai Prendi la palla E fai gol E vabbè Lo fanno apposta Però eh Ti sei riuscito A far stunnare Vai così Uno pari Ed è già tanta roba A mio parere Vai Jumpa lì Ok Fermato Perfetto Andiamo a belli A dritto Non ci interessa niente Vai Eliminato Gol Così si fa De cattiveria E andiamo a provare anche un annientamento Giusto per Mettiamoci belli di punta E vediamo che creiamo Non ne sono certissimo Di questa cosa Ma ce la potremmo fare Perché questi cespugli Ripeto Se vengono distrutti Ne siamo rovinati Però possono essere Un'ottima Copertura Effettivamente Vediamo un po' Se riusciamo a gestirlo Bam Bam E devastazione Quasi Completa Quello muore No non è morto È stato curato Sì però Cosa Dovresti un attimo Andarci un po' più tranquillo La scimmia è ottima In questa situazione Ma sai Questa la vinciamo Molto veloce Grazie a questi Brawler qua Ok Quello si è stato Eliminato Uccidimi Ti prego uccidimi Nulla 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 Sto facendo dei takedown Da pazzi Io lo so Sono un pazzoito Come mi lancio Con dog Ma Mi vale la pena Sinceramente Con dog Bam 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 Devasto 6-1 Ok Ok Faccio il giro di qua Curiamo lui Guarda che c'è prova Io mi curo sempre io Tanto Lo so io che sopravviva La grande Guardalo Guardalo No Mi era finito Sono stato un perla Lo so Sono partito troppo tardi Lo dovevo fare leggermente prima Questa esagerata E' vinta Perché mu fanno una kill loro Dai una kill a nostri E Wallah Bam Devastante Arriviamo a mille like Condividete il video Scrivete al canale Se noi Lascia il hashtag Brawl Stars Per ricevere un cuoricino E se avete idee Per contenuti da portare con Brawl Scrivetemelo qua sotto nei commenti Che sono sempre ben accette Scrivete al canale Scrivete al canale Scrivete al canale